Laurita, stasera, tortilla! Sì, si va in Mexico! Vai! Ragazzi, stasera si festeggia! Perché? Cosa è successo? Ho accompagnato mia soocera in aeroporto per un viaggio! A proposito di viaggi, io e Laura ci siamo appena regalati una vacanza fantastica in Messico! Che roba! Bravi! E noi a casa a lavorare! Ma com'è possibile? Avete fatto 13 al Totocalcio! Ma che 13! Basta andare da Oro Cash, vero Laura? Eh sì, io avevo dei vecchi gioiellini d'oro! Ricordi dei miei ex fidanzati! Erano orrendi! E li ho portati da Oro Cash! Tanto per non sbagliare! E con i soldi che mi hanno dato ci siamo regalati questa splendida vacanza! Questa è davvero una grande idea! Però è così facile? Non solo facile, ma penso sono stata accolta in maniera piacevole e professionale tanto che mi sono fermata e... mi sono regalata quest'anello! Ma è bellissimo! Beh, però chissà quanto ti è costato! Ma che è costato? Da Oro Cash ho scoperto un altro mondo! Puoi trovare tantissimi gioielli rinnovati, di qualità certificata e garantita! A prezzi incredibili! Te capivi? Beh, allora noi andiamo! Oro Cash ci aspetta! Ma no, ma dove andate? Alla cena? Il sombrero? Le tortillas? Bella che te pago! Ma... Comunque non erano così orrendi i miei ex fidanzati, sai? Non è bello certo che è bello? Che bello che è bello! Oro Cash! Oltre 400 negozi in Italia! Oro Cash! Tanto per non sbagliare!